Un nuovo mezzo per potenziare il servizio antincendio boschivo lo ha acquistato l'Unione Comuni della Garfagnana grazie anche a un contributo della regione toscana, un piccolo fuoristrada Suzuki 4x4 attrezzato per dirigere le operazioni antincendio. L'Unione gestisce il servizio antincendio boschivo per i 15 comuni della Garfagnana e c'è particolare impegno ed attenzione per il potenziamento di questo servizio. Sì, il bosco è sempre più al centro delle nostre attenzioni per una valorizzazione, una cura nuova del bosco, investimenti importanti, progetti di green economy e questo della prevenzione però è fondamentale perché se non preveniamo gli incendi e essere pronti anche a intervenire prima possibile quindi questo servizio per noi è essenziale. Ma quali sono in particolare le funzioni di questo nuovo mezzo? È fondamentale per arrivare nei punti più inaccessibili con le strade che abbiamo nei boschi e permette al direttore operazioni di spegnimento di essere il più vicino possibile all'incendio e di posizionare il punto di comando avanzato dove tutto il personale che interviene sull'incendio viene tenuto sotto controllo e in maniera di garantire anche la massima sicurezza per quanto riguarda gli operatori che sono a operare all'interno dell'incendio. Per quanto riguarda l'attività antincendi boschivi nel corso del 2022 la Garfagnana è stata interessata da 22 incendi con una superficie percorsa dal fuoco in media di 2 e 3 ettari.